Questa questione dei ministri che cosa ha fatto per i disoccupati? Nella sostanza ha abbandonato i giovani disoccupati del Nord, riversando la maggior parte delle risorse, quasi la totalità, esclusivamente per i giovani disoccupati del Mezzogiorno. Noi ieri abbiamo chiesto al Governo Letta di non dimenticare il Nord, il Governo Letta si è smentito quest'oggi con l'approvazione di questo decreto sull'occupazione che nella sostanza non dà risorse al settentrione. Non solo ha deciso di mettere in campo una carta sociale per la povertà riservandola esclusivamente ai cittadini del Mezzogiorno, come se al Nord fossero tutti milionari. Su questo la Lega farà una battaglia durissima perché è inaccettabile che l'area produttiva del Paese che ha contribuito e contribuisce al benessere di tutto il Paese sia abbandonata a se stesse in un momento di difficoltà economica.